Velocità e umanità sono queste le keyword del nuovo centro medico brianteo di Silvia Mercandelli e Barbara Arienti che mira a rivoluzionare il concetto di cura e assistenza sanitaria. L'obiettivo principale sarà fornire un servizio completo e personalizzato, mettendo al primo posto la persona e le sue esigenze. Il centro medico infatti nasce da un'idea originale e dalla volontà sincera di fare del bene da parte della fondatrice Barbara Arienti. Abbiamo pensato di aprire un centro dedicato al servizio della salute FAST, quindi visto e considerato che ci sono tantissimi tempi di attesa che oggi come oggi la sanità purtroppo ha delle problematiche enormi a livello di tempistiche o comunque anche di gestione delle persone che hanno bisogno. La storia del centro medico brianteo inizia nel 2001, quando è stato inaugurato il primo centro polispecialistico. Ci siamo sempre messi un po' al posto del cittadino, perché comunque lo siamo anche noi sotto altri aspetti. E quello che io mi rendo conto è che nel momento in cui ho una problematica non grave e la devo gestire in poco tempo, proprio perché ho bisogno di avere dei risultati in poco tempo, mi sono sempre trovata in difficoltà. E quindi di conseguenza mi sono sempre a balsa del pronto soccorso, che non ritengo comunque giusto che il cittadino si debba valere del pronto soccorso quando dovrebbe essere lasciato per chi ha bisogno di cose molto più serie e importanti. Dopo l'acquisto di una sede più grande è nata l'idea di aprire un nuovo centro polispecialistico, con un approccio però diverso. L'idea è stata sviluppata da Silvia Mercandelli, la figlia di Barbara Rienti, con l'obiettivo di fornire assistenza ai pazienti che non riescono a trovare un medico di base o che preferiscono evitare l'affollamento del pronto soccorso per problematiche non urgenti. Nella speranza di riuscire a garantire servizio nell'arco delle 48 ore sarà proprio questo il nostro obiettivo, anche per andare proprio a velocizzare quella che è la richiesta del cittadino, che magari recandosi presso un ospedale in codice bianco potrebbe attendere dalle 6 alle 8 ore, vorremmo proprio focalizzarci su questo. Silvia desidera portare avanti la mission di sua madre, mettendo sempre al centro le esigenze e il benessere dei pazienti. Quello che vogliamo fare noi è dare un servizio privato in una maniera un po' più umana, anche a livello proprio economico. Stabiliremo anche proprio delle tariffe sul FAST che saranno accessibili perlomeno a tutti. Il centro medico si impegnerà a offrire un'esperienza accogliente e umana ai pazienti. Ogni persona non verrà considerata come un numero, ma come un individuo con un nome e una storia, ovviamente offrendo un servizio FAST.